Salve a tutti cari amici dal cuore rosanero qui è rosanero podcast che vi parla prima di iniziare il podcast ci tenevo veramente a ringraziare tutti gli iscritti al canale chi ha lasciato like e commenti veramente grazie di cuore questo è il modo migliore che avete per aiutare il format a crescere grazie 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 iniziando con il podcast devo darvi una notizia un po amara ovvero quella che riguarda felici pare infatti che il giovane centrocampista abbia rescisso prima del tempo il suo contratto di prestito con il rosanero prossima settimana probabilmente ritornerà a lecce e quindi lascerà un bel vuoto al centrocampo devo dire che mi dispiace un po perché vedevo nel giovane un ottimo potenziale non ci resta che portare pazienza altra notizia dal sapore amaro è quella legata a gregorio luperini pare infatti che le sirene del perugia stiano suonando costantemente e addirittura voci di corridoio parlano di un'offerta legata a un contratto triennale dietro questo forte interesse a quanto pare c'è lo zampino dell'allenatore del perugio ovvero castori che è un grandissimo estimatore di luperini e pare che insista per avere il giocatore nel proprio gruppo ovviamente attendiamo tutti i riscontri del caso e sarà solo il tempo a darci una risposta tempo che metto tra virgolette è l'unica cosa che mi preoccupa su questa questione perché appunto luperini è in scadenza di contratto nel 2023 per cui la cosa che gli potrebbe fare gola nell'eventuale offerta è una proposta di contratto più lunga ripeto staremo a vedere cosa accadrà passando adesso al mercato in entrata sembra che il ds castagnini sia al lavoro per portare in maglia rosa nero il difensore classe 96 ne del seru e l'attaccante classe 99 augustus cardbo e a quanto pare le voci di mercato vedono anche la dirigenza del crotone proprietaria di entrambi i calciatori molto propensa concludere l'affare in favore dei rosa anche qui non ci resta che attendere i riscontri e adesso passando al punto hot della puntata di oggi del podcast mi volevo soffermare su quella che sarà l'amichevole di oggi alle ore 18 contro il pisa possiamo dire che questo sarà un test piuttosto tosto per il rosa nero ma sottolineo test ebbene lo sappiamo perché andremo a scontrarci contro la nostra vecchia conoscenza che poi vecchia non è perché giovanissimo ovvero lorenzo lucca sarà interessante vedere infatti le due forze in campo ovvero pisa e palermo come affronteranno questa amichevole e soprattutto sarà molto importante per scaldare il motore in vista dell'inizio del campionato sicuramente vedremo un pisa piuttosto affamato in questa amichevole quanto meno questo è quello che mi aspetto io essendo che ha perso di fatto la finale dei playoff contro il monza sfiorando di fatto la serie a ma dall'altra parte abbiamo il palermo bello carico che ancora ha nella mente la sua vittoria dei playoff di serie c e che probabilmente ha voglia anche di mettersi in discussione contro una squadra interessante e forte come il pisa la probabile formazione del palermo sarà composta da ma solo tra i pali i due centrali lancini e marconi mentre i terzini saranno giron e buttaro a centrocampo spazio a de rose e dall'oio mentre in avanti è molto probabile che troveremo floriano fella e valente unica punta ovviamente matteo brunori rimasti invece a casa a palermo sette elementi a cardi damiani crivello peretti soleri luperini appunto felici e pigliacelli la motivazione è legata a un lavoro differenziato per praticamente la maggior parte dei calciatori citati tranne luperini che ha qualche linea di febbre altresì mirko pigliacelli deve formalizzare il suo tesseramento in rosa nero aggiungo anche che la partita sarà visibile in chiaro sul canale 18 del digitale terrestre ma in toscana mentre in streaming è possibile visionarla sul sito ufficiale dell'emittente www.50canale.tv non so voi ma io la vedrò sicuramente ovviamente fatemi sapere il vostro parere qui sotto con un commento anche a fine partita la puntata di oggi del podcast è terminata io vi ringrazio come sempre dell'ascolto vi mando un abbraccio iscrivetevi al canale se vi va e lasciate like e commento ancora grazie e alla prossima ciao